Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore Caterina Balivo, non ha bisogno di presentazioni. Bellissima, talentuosa e carismatica, impossibile non amarla. Lei è una delle conduttrici più conosciute e apprezzate della televisione italiana, ma sapete che è anche la maggiore di due sorelle? Non ci crederete mai, una delle sue sorelle è molto famosa. In pochi si erano accorti di questa parentela, ma la nota conduttrice la conosciamo molto bene, è una donna molto riservata e ha sempre cercato di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori e dai gossip. Siete curiosi di scoprire chi è sua sorella? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete, conosciamola meglio. Chi è la sorella di Caterina Balivo? E, famosissima, classe 1980, nata il 21 febbraio a Secondigliano, Napoli. Caterina Balivo, ha ben due sorelle, Francesca, medico pediatra e Sara, sua sorella minore. Quest'ultima l'abbiamo vista nel 2018 a Pechino Express, storico reality di Rai 2 ambientato in Africa. Ha partecipato insieme alla sorella di un'altra famosissima conduttrice, Simona Ventura, infatti, erano la coppia delle, sorelle di Virgolette punto. Nella trasmissione, Sara, ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e carismatica, proprio come Caterina Le due sono negatissime, infatti, anche sui social, spesso condividono le loro foto insieme Il loro profondo legame è davvero incredibile, si amano incondizionatamente Ma sapete cosa fa nella vita, la sorella minore della Balivo? Scopriamo di più Classe 1988, nata il 26 aprile ad Anversa. Sara Balivo è un architetto appassionata di moda e di design, infatti, da giovanissima decide di trasferirsi a Milano per studiare e realizzare il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare una designer, di successo Con molta determinazione, si è laureata in architettura con una specializzazione in set designer Inoltre, ha una linea di scarpe tutta sua, dal nome Madame Cosette Grazie alla realizzazione di questo marchio, ha avuto un grande successo Non è finita qui perché la sorella minore di Caterina Balivo, si occupa anche della gestione di un blog, Due Biscotti nel Tè Un sito dove parla delle sue passioni, dalla moda ai viaggi Invece, sui social, è molto attiva proprio per questo, è seguita da più di 50.000 follower Riguardo la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è convolata a nozze il 18 luglio 2020, con Piero Cicconi I due non hanno figli, però, amano viaggiare, infatti, sui loro rispettivi profili IG ci sono diversi scatti che li ritraggono luoghi meravigliosi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente